Buonasera cari amici viaggiatori, come state? Mi chiamo Gabriele, sono la vostra guida della Puglia. Oggi siamo in località Caste del Monte, nel territorio di Andria, 18 km d'Andria, nella provincia di Barletta Andria Trani andremo a visitare questo famoso castello a pianto ottagonale che è sito unesco della regione Puglia. Ecco, vedete, abbiamo l'ottagono simbolo di Caste del Monte. Eccolo qui, tra un po' lo vedremo. Il castello si trova su una collina a 540 metri sul livello del mare e ci troviamo all'interno del Parco Nazionale della Murgia. E questa è Andria appunto, una rappresentazione di Andria che è la città più vicina al castello, si trova a 18 km da qui. E abbiamo un amico che ci vuole dare il benvenuto. Vi presento Giuseppe. Buonasera a tutti da Castello del Monte. Giuseppe ha qui una bancarella e ci mostra questo oggetto tipico dell'artigianato locale. Come si chiama? Il Pumo. Il Pumo Pugliese. È un oggetto di ceramica, simbolo di prosperità e di abbondanza. È un bocciolo di un fiore, bocciolo di una rosa. È molto usato come centrotavola oppure per abbellire appunto le ringhiere dei balconi. Ok, grazie Giuseppe. Salutiamo gli amici. Benvenuti. Grazie, grazie Giuseppe. Bene, iniziamo la nostra passeggiata. Eccoci qui. C'è tanto verde perché ci troviamo appunto all'interno del Parco Nazionale dell'Altamurgia. Un parco che è stato istituito nel 2004 per tutelare la biodiversità della specie animale vegetale, quindi un territorio unico dal punto di vista ambientale. Che cos'è la Murgia? È un altopiano cassico collinare. Vedete sullo sfondo Cass del Monte si trova su una collina e una posizione isolata a 540 metri sul livello del mare. È un territorio caratterizzato dalla presenza di grotte, cavità naturali. Quando piove l'acqua si disperde all'interno di queste cavità naturali e siamo in un territorio ricco di pietra. Ecco qui vedete i mitici muretti a secco pugliesi. Ecco, guardate un po'. Quindi la termine Murgia deriva da Murex. Murex dal latino significa roccia guzza spigolosa. Quindi la collina è fatta da roccia. Qui ci sono proprio dei banchi di roccia. È una pietra di origine calcarea appunto. Quindi di origine marina perché la Puglia è una terra che è stata sommersa dalle acque del mare fino a 90-100 milioni di anni fa. Quindi vedete qui ci sono banchi di roccia. Questi sedimenti si sono compattati nel corso dei vari millenni appunto ed è nata questa pietra che è stata utilizzata per la realizzazione dei muretti a secco. Questi tipici muretti a secco sono bassi, di solito servono a segnare le linee di confine tra una proprietà terriera e l'altra. E come si realizzano? A secco appunto senza malte, cemento, senza ferro. Quindi le pietre vengono estratte dalle cave, vengono tagliate nelle cave, vengono incastrate tra di loro perfettamente. Ecco guardate un po' che meraviglia. È opera appunto dell'artigianato, è un manufatto locale quindi sono operai altamente specializzati che alzano questi muretti a secco. Ma come si arriva qui in questa terra splendida? Bene, abbiamo la possibilità di arrivare a Bari in aeroporto. Abbiamo l'aeroporto più vicino e quello di Bari che si trova a circa 50 km di qui. Si può arrivare in treno anche a Trani, Barletta, che sono località 38-40 km di strada dal castello e poi si possono prendere delle navette. Ecco noi siamo arrivati oggi prendendo una navetta ad Andria che è una città provincia, Barletta-Andrea Trani, sono tre città che fanno parte della stessa provincia. Stiamo parlando appunto della BAT e la navetta ci ha portato qui al castello in 15 minuti. Ecco, ma questo castello è un castello che è stato costruito dall'imperatore Federico II di Svevia, di cui vi parlerò adesso. Ecco, è un imperatore che ha governato il sud Italia nel 1200. Nasce a Iesi nel 1194 e muore all'età di 50 anni, 56 anni nel 1250, ma in questo lasso di tempo diventa re di Gerusalemme, duca di Svevia, re di Sicilia e imperatore del Sacro Romano impero. E qui abbiamo, vedete, Federico II di Svevia rappresentato con un falcone. E questa è la pianta di Castelmonte, quindi il castello è famoso per essere ottagonale e questo ottagono è stato ripreso per lo stemma della regione Puglia, quindi questo è lo stemma della regione Puglia. Vedete, ci sono diversi simboli. Al centro c'è l'albero di ulivo, simbolo della Puglia. In Puglia ci sono 60 milioni di alberi di ulivo, l'ottagono in rosso, quindi richiama la pianta del castello e poi ci sono questi sei cerchi verdi che sono le province pugliesi, sono sei appunto, sono Foggia, Bat, Bari, capoluogo di regione, Brindisi, Taranto e Lecce e la corona simbolo di Federico II di Svevia. E qui ho anche la monetina da un centesimo di euro che riproduce appunto l'immagine di Castelmonte. quindi è un'immagine che è stata ripresa per coniare nel 2002 l'immagine di Castelmonte che è proprio l'immagine che abbiamo qui di fronte a noi in questo momento. Ecco noi adesso ci avviamo verso il castello, vi lascio il tempo di fare una fotografia e parliamo un po' della storia di questo castello perché è stato costruito. Bene i lavori di costruzione iniziarono nel 1240 e perché risale appunto a quel periodo un documento, una lettera con cui Federico II di Svevia ordina ai suoi uomini di acquistare dei materiali per costruire un actractum, usa questo termine latino l'actractum, potrebbe essere o il pavimento se ci riferiamo all'inizio dei lavori di costruzione del castello ma potrebbe essere anche il tetto se ci riferiamo alla fine dei lavori di costruzione. Bene col termine actractum gli storici hanno individuato il pavimento quindi i lavori sono iniziati nel 1250 e pensate che nel 1250 quando l'imperatore Federico II muore appunto i lavori non erano stati ancora ultimati quindi rimane un po' un'opera incompiuta e ha avuto anche diverse destinazioni d'uso e per un periodo nel 1300 è stato un carcere poi nel verso la metà del 1500 viene acquisito da una famiglia nobile locale la famiglia Carafa diventa luogo di villeggiatura diventa luogo anche per le famiglie nobili che venivano qui a rifugiarsi quando nelle città vi erano le pestilenze e poi il castello è stato abbandonato all'incuria e al degrado per quasi 300 anni quindi diventa una sorta di cava naturale da cui sono strati sono stati estratti materiali che sono stati impiegati per la costruzione di altri edifici nella nostra nelle nostre città e qui il castello ha subito una serie di guasti di manomissioni diventa un rifugio per i briganti per i pastori che qui ci portavano le pecore appunto qui dicevamo che questo castello diventa sito unesco nel 1996 ma per quale motivo non solo per la pianta ottagonale che unica ma per una fusione di stili questo castello una fusione di stili c'è lo stile arabo il romanico pugliese il gotico tanti stili messi insieme ecco e proviamo a vedere un po questi stili intanto vedete di fronte a noi c'è il portale d'ingresso principale che tutto di di breccia corallina questo materiale color rosso si chiama breccia corallina color rosso perché contiene all'interno degli elementi di ferrosi che col tempo si sono ossidati e hanno conferito questa particolare colorazione rossastra alla pietra è un materiale proveniente dal gargano ecco bene nella realizzazione di questo portale si prende come riferimento l'arco di trionfo dei romani quindi ci sono vedete due le sene che sono queste finte colonne che sorreggono un finto architrave con un finto timpano e nella realizzazione di questa porta si prende appunto il modello arabo poi ecco vedete qui abbiamo un'altra prospettiva di questa pianta ottagonale i materiali sono tanti sono stati utilizzati tanti materiali la breccia corallina per la costruzione delle torri e delle cortine la pietra calcarea tipica delle nostre cave e poi ci sono stati anche dei marmi marmi chiari provenienti dall'oriente dalla grecia vedete all'esterno c'è una scala un tempo erano tre rampe di scale vi era anche una rampa centrale che adesso non c'è più queste tre rampe erano tutte rivestite di marmi ok quindi ci sono otto lati ritorna il numero 8 lotto e simbolo dell'infinito e quindi abbiamo stili diversi abbiamo visto lo stile arabo ma abbiamo uno stile romanico al primo piano pian terreno e uno stile gotico al piano superiore infatti abbiamo su su sei lati vedete ci sono delle monofore con l'arco a tutto sesto quindi c'è lo stile classico il romanico pugliese romanico lo stile con cui sono state costruite le chiese le cattedrali qui in puglia ma al piano di sopra ci sono delle bifore su sette lati ci sono delle bifore le cui colonnine centrali sono state tutte asportate non ci sono più solo sul lato c'è la trifora e sono gotiche quindi c'è uno stile gotico al secondo piano vedete l'arco è ogivale quindi abbiamo un piano più più semplice a pian terreno che probabilmente nel piano della servitù il piano nobile più luminoso più elegante e al piano di sopra quindi abbiamo il gotico bene a cosa servisse questo castello non lo sappiamo adesso di preciso perché le ipotesi sono sono tante prima di tutto non è un castello nel senso vero e proprio del termine quindi non si parla di un castello militare perché siamo lontani da da quelli che che erano i porti le strade le vili comunicazioni principali di un di un tempo e inoltre intorno al castello vedete non ci sono strutture militari non c'è il fossato non c'è mai stato un ponte elevatorio e quindi non era un castello militare sulle torri vediamo le feritoie come sono qua ce n'è una vedete queste feritoie sono particolari perché sono strette all'esterno si allargano all'interno nei castelli militari di solito le feritoie militari le settiere si allargano verso l'esterno qui invece si allargano verso l'interno quindi queste feritoie servono essenzialmente a far entrare la luce ad amplificare la luce all'interno delle torri all'interno delle sale quindi non è un castello militare non è mai stato un castello militare c'è chi afferma che il castello sia stato studiato per motivi astronomici effettivamente ci sono anche dei legami che sono stati studiati soprattutto vengono osservati questi legami tra il periodo del dei quinozzi e durante i sostizi c'è un legame appunto tra l'architettura e l'astronomia come avveniva in tanti edifici medievali ma non riusciamo a capire perché l'imperatore abbia voluto costruire un castello così ricco di significati allegorici simbolici geometrici solamente per studiare l'astronomia c'è chi afferma che il castello sia stato costruito per custodire il santo graal che i cavalieri templari avrebbero donato a federico secondo di sveglia bene il santo graal che cosa è stato ecco è stato o il calice che è stato usato da gesù cristo durante l'ultima cena oppure è stato oppure può essere stato il calice che ha contenuto lo stesso sangue di gesù cristo è vero che i cavalieri templari nel medioevo erano presenti qui intorno in zona però ecco anche questa ipotesi è stata scartata perché tra i cavalieri templari e federico secondo di sveglia non correva buon sangue quindi qual è l'ipotesi più accreditata bene il castello sicuramente era un luogo di rappresentanza segno del potere sul territorio è stato costruito qui vedete in questa zona bellissima isolata per osservare il territorio circostante ma anche per essere osservato il simbolo del potere imperiale visto da lontano il castello sembra una corona di pietra la forma di una corona di pietra quindi era un simbolo molto forte di potere ecco anche come residenza di caccia visto che l'imperatore amava la caccia con il falcone non era facile e funzionale questa struttura perché comunque all'interno del castello non sono state mai trovate delle stalle delle cucine quindi l'imperatore veniva servito e difeso dei suoi uomini che avevano un accampamento all'esterno del castello guardate che terra magnifica in questo periodo si possono fare delle belle passeggiate qui intorno ci sono numerose aziende agricole ci sono le masserie siamo nel territorio di andria che anche luogo di produzione della burrata quindi la burrata un prodotto igp indicazione geografica protetta è un sacchetto fatto con con l'impasto della mozzarella che racchiude un cuore morbido fatto di stracciatella e di panna quindi qua ci sono numerose aziende agricole che sono anche le strutture ricettive per per i turisti le masserie sono nati in puglia tra il sedicesimo il diciottesimo secolo nascono come aziende agricole fortificate avevano praticamente la funzione principale era quella di produrre grano olio vino e quindi erano anche fortificate perché dovevano difendere i contadini dagli attacchi che arrivavano dal mare stiamo parlando dei famosi pirati saraceni e adesso il concetto di masseria è un po cambiato perché praticamente le masserie sono state ristrutturate sono diventate anche dei posti per per trascorrere delle vacanze bellissime ecco guardate qui abbiamo un'immagine di una masseria pugliese guardate sono masserie che ospitano ogni tipo di comfort quindi hanno anche piscine campi da golf si mangiano dei piatti buonissimi a chilometro zero quindi vi invito a trascorrere le vostre vacanze in puglia ce ne sono tantissime in questa zona nella zona di castelmonte dove ci sono muretti a secco ci sono i trulli ma un'altra zona molto bella è anche la la valle d'itria la zona di albero bello dove ci sono appunto i trulli quelli più famosi albero bello vi ricordo che è un sito unesco della regione puglia ritorniamo sul castello ecco vi faccio vedere questa immagine del cortile centrale a pianta ottagonale il cortile e secondo le ricostruzioni un tempo qui al centro vi era una vasca ottagonale e una fontana era una fontana e questa vasca serviva anche per immagazzinare l'acqua piovana infatti siamo come vi dicevo prima in un territorio classico quindi quando piove l'acqua si disperde non ci sono fiumi corsi d'acqua in superficie l'acqua va a fine nel sottosuolo quindi questo questo cortile aveva la funzione di incanalare l'acqua all'interno di una grande cisterna sotterranea e quindi il castelmonte era anche una sorta di una macchina idraulica con una cisterna sotterranea e con cinque cisterne pensili poste in alcune di queste torri che servivano a raccogliere l'acqua quindi vedete qua ci sono le torri nelle torri troviamo o delle scale oppure ci sono praticamente delle ci sono dei ripostigli ma sono stati ritrovati anche dei servizi igienici medievali che erano dotati di di pozzo nero per gli scarichi avevano l'acqua corrente che fluiva per caduta libera dall'alto verso il basso perché appunto alla sommità delle torri sono state ritrovate le cisterne pensili per la raccolta dell'acqua piovana quindi l'acqua fluiva per caduta libera dall'alto verso il basso sfruttando la forza di gravità e quindi questi servizi erano efficienti avevano l'acqua avevano il pozzo nero e c'erano c'erano anche i sanitari in pietra erano veramente molto efficienti poi dove ci sono queste finestre qua ci sono delle sale vedete ci sono in tutto 16 sale perché ecco se ritrovi ritorniamo sulla mappa guardate queste sono le sale sono 8 sale a forma di trapezio a piano inferiore 8 sale a forma di trapezio a piano superiore ecco questo è un esempio di come era la sala vedete ci sono anche a piano superiore c'erano anche dei sedili per potresti sedere sono stati ritrovati dei cammini ci sono tracce di cammini qua vi era un cammino ecco il cammino serviva per riscaldare queste queste sale e sono stati ritrovati addirittura dei mosaici in una particolar modo sul pavimento sono state trovate le tracce di questi mosaici pensate che questo è uno dei siti più visitati in italia è il più visitato della puglia sicuramente ed è nella classifica dei primi 30 siti italiani quindi c'è veramente tanta gente che arriva tutti i giorni a visitare questo castello ci sono tanti turisti europei soprattutto tedeschi perché federico secondo di sveglia vi ricordo perché vi ricordo che federico secondo di sveglia è stato un imperatore di origine tedesca sara fa una domanda dice ci sono dei sentieri qui vicino beh sì siamo all'interno di una di un parco nazionale ci sono dei sentieri da percorrere a piedi a cavallo oppure in bicicletta quindi abbiamo veramente una vasta scelta e il territorio veramente molto bello e ci sono addirittura agli antichi tratturi che erano le strade che un tempo venivano percorse dai pastori con il bestiame con con le pecore quindi stiamo parlando addirittura della transumanza che era già conosciuta al tempo dei romani e quindi si può andare percorrendo questi sentieri sia nell'interno nella zona collinare vedete di lì ci sono le colline rilievi che raggiungono i 600 700 metri di altezza oppure si può andare verso il mare ecco vedete qui di fronte a noi abbiamo il mare c'è un po di foschia ma di solito da questo castello c'è una vista splendida non solo si vede il mare ma si vede il golfo di mafredonia quindi si vedono le coste del gargano ecco adesso vedete ecco qui si intravede il gargano questo qui il gargano quindi qui e c'è il golfo di mafredonia questo è il mare la città più vicina di fronte a noi e questa qui andrea è una delle tre città co capoluogo di provincia e qui dobbiamo spendere due parole perché andrea veniva chiamata fidelis dall'imperatore federico secondo di svevia era una città fedele all'imperatore ecco perché si chiama andrea fidelis e l'imperatore ha voluto omaggiare la città di andrea anche seppellendo due delle tre mogli che ha avuto all'interno della cattedrale infatti nella cripta della cattedrale di andrea ci sono ancora oggi le le tombe di due delle tre mogli che sono isabella d'inghilterra e yolanda di brienne ecco vedete all'interno del castello abbiamo queste finestre queste monofore circolari che sono chiamati gli occhioni di federico secondo sono chiamati così perché sono proprio un omaggio dell'imperatore alla nostra terra no lui paragonava la puglia ai suoi occhi e questa è la parte interna della cupola quindi dove c'è la torre ci sono queste cupole con questi costoloni particolari ecco vedete ci sono appunto delle chiavi di volta quindi all'interno il castello è veramente molto ricco ma pensate che sicuramente un tempo doveva essere ancora più più ricco di come lo è adesso perché comunque è stato spogliato nel corso dei secoli ci vediamo la prossima volta in puglia ciao